Amici della FISO, sono Pietro e l'Ari... no, sono Maddalena Rialdo. C'è chi preferisce il Giro d'Italia? Ma noi, l'Orienteering. Perché c'è ancora gente che preferisce altri sport all'Orienteering? A Pietro. Amici dell'Orienteering e non quelli che vanno a seguire il ciclismo. Chi è che va a seguire il ciclismo quando c'è l'Orienteering? Francesco, adesso che abbiamo fatto l'intervista, ma il Rietti le interviste te le fa così bene? Diciamo che lui ne sa più di ciclismo che di Orienteering, però è sempre molto simpatico. L'Orienteering è più bello! L'Orienteering è più bello!